0473, 0473, Sv40, 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 Sv40 QRZ QRZ di nuovo, ti sento nel QRM, avanti Ho copiato portatile, qua è la stazione Italia, Uniform 1, Delta Oscar Foxtrot, 612120, ripeti un po' INDIA UNIFORM 2, INDIA KILO ECOPORTATILE, RECETO ACCORA, INDIA UNIFORM 2, INDIA KILO ECOPORTATILE, QSL, QSL, c'è un po' di QSB, avanti SESEMO SPARITO, Fai un PARK ON THE AIR, MELEPOTA, TI VETO SUL CLUSTER ADESO, PERFETTO, INDIA, 0476, QSL ciao 73